Ciao mamma, come va? Bene. Benissimo. E spero che stirò bene anche gli altri. Bene. Cosa facciamo oggi? Oggi grattiamo un bel grattone. Un bel grattone, va bene. Vai mamma. Sì, ciao. Cominciamo? Sì, cominciamo. Allora qui abbiamo un 19, un 31, un 11, un 39, un 32, un 16, un 21, un 18 e un 18. 49 e 46. Allora cominciamo a grattare. Vai. La prima riga. Dove cazzo stai? Ti ho mandato che hai una varicetta. Oh. Questa, niente. Non si vede qua. Grattata bene. Ok, vai. Ehi, posso aiutarla? Quel tizio sembra proprio c'è niente. No, non può essere rendendo c'è niente. Qui, niente. Ecco, niente. La terza colonna. Niente. Proprio niente. Vai mamma. Allora. Allora, 30, 39, 25, 14. Niente, ragazzi. Ok, niente. Vai. Qui sono 33, 3, 41. Niente, ragazzi. 6, 29. Vado. 6, 29. Giorgio. 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 Niente, ragazzi. Giorgio. Giorgio. Allora. C'è un 20, 43 e 15. Niente. Niente, vai. 18. Vediamo qui. No. Niente, ragazzi. Niente. Niente. Proprio niente. 45, 49, 47. Niente. Niente. Avanti l'ultimo. Non c'è. E qui niente da fare. 46, 38, 28, 10. Niente, ragazzi. Niente, va bene. Salutiamo. Ciao, ciao. Cosa vai? Ci vedremo domani. Va bene. Passate delle buone feste. E fate le passeggiate. E passeggiate. E con la cattitica da fare passeggiate. Sempre. Ciao. Facciamo delle belle passeggiate. E ci vediamo. Ciao. 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 Ciao.